e salve gente venuti e bentornati a Tekken 5 e questo episodio io un pochino da fare allora vediamo un po ma si va faccio jack raga vi ricordo che di commentare i commenti che volete per il prossimo episodio tra quelli ancora disponibile ok grazie ah contro bryan chissà qui quale sarà il personaggio che mi riderà qua sotto è buono vieni qua ok così si dovrebbe vedere bene è abbastanza vai va bene così va bene va bene va bene va bene va bene va va bene 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 oh no eh inutile le chiestate tanto non si apre eh con meglio buttare la spazzatura va visto che non serve e vuole così un po' più senza razzi o altro uno dei tre sono raggi che oggi di più il Tekken 3 l'ho odiato molto ma anche qua l'ho odio l'ho odiato molto ma anche qua l'ho odiato molto ma anche qua l'ho odiato l'ho odiato è Siamo quasi alla fine Alla fine Faking Kong David Jean Vabbè che ti cominciamo, vai a terra E' andato Beh a noi due Tick Party Vabbè Robert Vabbèawan Lance a full of thunder energetica Moledetta Final round Fight 1 2 Ehi, ciao Aia E va, è sconfitto Il 9 minuti esatti o 9 minuti e 1 A me mi è sembrato 9 minuti esatti No, no, no Il 10 minuti esatti Ehi, per la miseria Si è messo a fare l'imitazione di Terminator Eh, è stata bene a Zane che abbia ricordato O sarebbe morta, mi sa Jack Vabbè, e venissero felizi e contenti Beh, ragazzi Vediamo al prossimo episodio di Second 5 Nominate il prossimo E ci vediamo Ciao 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 Ciao